Se in qualche maniera seguite il mondo della fotografia e del videomaking è probabile che abbiate già snasato la notizia. Canon ha appena annunciato un nuovo obiettivo, il 24 105 f2.8. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, come sapete mi occupo di fotografia e oggi sono qui per fare un video che non avevo voglia di fare. Però siccome qualcuno me l'ha chiesto mi vedo in qualche maniera chiamato in causa e allora facciamo questo video commento al nuovo obiettivo che è stato annunciato da casa Canon, stiamo parlando di un 24 105, quindi una lunghezza focale in qualche maniera classica. Abbiamo imparato a conoscerla nel corso degli anni, molti di noi ne hanno uno, siamo però abituati a utilizzare un f4. Vi faccio l'esempio di quello che ho qui con me, questo qui è un 24 105 mm f4 RF, quindi con la monta mirrorless, è una lente di costruzione abbastanza recente, come potete vedere queste sono le dimensioni, le performance sono quelle standard di cui vi ho già parlato in un altro video che vi linko in card. A questo proposito vi ricordo che ho già recensito diversi prodotti di Canon ma anche di altri brand, per cui il consiglio migliore che mi sento di darvi a questo punto è di iscrivervi al canale, oltre che di andare a recuperare le playlist in cui parlo del 24 105 sia per reflex sia per mirrorless. Ma parliamo un attimo di questa nuova lente, perché è così importante? Beh perché è un'innovazione totale, assoluta, infatti negli ultimi, non so quando è uscito il primo 24 105, ma credo negli ultimi vent'anni o giù di lì, siamo stati abituati a ragionare sul 24 70 f2.8, quindi uno zoom standard per full frame con un bellissimo range e con una bellissima apertura che però si fermava a 70 mm e come contraltare siamo stati abituati a lavorare con un 24 105 che però aveva un diaframma costante di f4 come diaframma massimo, quindi siamo stati abituati a scegliere uno di questi due tavoli da gioco. Ebbene dopo tutti questi anni che poi i brand si sono un po' uniformati perché tutti quanti brand hanno fatto il 24 70 f2.8 e la maggior parte dei brand ha fatto il 24 105 f4, si sono in qualche maniera venuti incontro, hanno detto se è stato possibile fare questa cosa la facciamo anche noi nello stesso modo. Ora Canon ha fatto qualcosa di un pochettino diverso, ha osato rompere questa tradizione e andare a mettere insieme un obiettivo con delle caratteristiche nuove, ovvero un obiettivo che continua a restituirci la lunghezza focale di questo e della serie EF6 per quello, esattamente identica, però avremo un diaframma costante di f2.8, quindi che cosa ci stiamo guadagnando? Ci stiamo guadagnando più del doppio della luce perché sarà un'ottica molto luminosa con cui potremo fare cose che insomma con questo ci verrebbe un po' difficile fare, avremo uno sfocato molto più pronunciato, la caratteristica rivoluzionaria è proprio nella costruzione quindi perché abbiamo a che fare con un'ottica molto più grande, molto più pesante, molto più ingombrante che però ci dà il meglio dei due mondi, quindi la lunghezza focale di quest'ottica con il diaframma della sorellina 24 70. È un passo secondo me importante perché si discosta da quanto fatto finora e ci fa intravedere un pochino quali sono le intenzioni della casa. Alcune caratteristiche di quest'ottica mi fanno pensare che sia stata pensata soprattutto per video più che per fotografia. Ve ne nomino qualcuna innanzitutto le dimensioni. Se fino ad adesso eravamo abituati a un ingombro di questo tipo, con la nuova ottica dovremmo moltiplicare per due, quindi avremo un obiettivo grosso così. E questo a parer mio è un bel handicap per chi fa fotografia. Questo ci sta già dicendo che non è un'ottica per amatori neanche evoluti secondo me. È un'ottica esclusivamente per professionisti perché è un'ottica di una scomodità tale che non è un qualcosa che ti porti in giro nello zaino tanto per. È una cosa che ti prendi solamente se ci devi lavorare e solamente se sai che verrai pagato per farlo. Perché non è questa. Non è una cosa che ti metti nello zaino e tutto sommato leggera. È una cosa molto scomoda da portare in giro. Io personalmente la vedo bene solamente su videocamere di fascia alta rigate. Questo è l'unico contesto in cui francamente vedo bene una lente del genere. Vi dico anche perché mi è capitato settimana scorsa di andare a fare un evento corporate. Un evento corporate in cui ho scattato delle fotografie all'interno del Museo Pol di Pezzoli per una serata organizzata da un'azienda che non vi sto a dire qual è. Il punto qual è? Avevo una lente come questa. Non era questa. Era il 24-70 f2.8 perché in un contesto del genere il 2.8 è oro. Con un f4 non sarei riuscito a cavare un ragno dal buco perché non c'era luce. Era una situazione buia e quindi ho dovuto tirare il collo alla mia macchina fotografica e alzare parecchio gli ISO. Ho dovuto usare uno zoom perché contesto dinamico mi serve uno zoom per essere flessibile però ho dovuto usare uno zoom con una bella apertura. Non potevo usare questo che è buio. Ora se io avessi avuto il 24-105 f2.8 per quanto riguarda la luminosità e per quanto riguarda il range sarebbe stata una manna dal cielo, certo. Ma con una lente lunga così, in un contesto corporate ristretto con diverse persone, vi assicuro che avrei preso ammazzate le persone che avevo davanti. Non sarei riuscito a lavorare con un'ottica del genere perché è troppo grande, troppo voluminosa. Quindi in mezzo alla gente, scattare in mezzo alla gente, la gente che chiacchiera, che prende il drink, non sarei riuscito a lavorare con una lente del genere. Quindi secondo me non è assolutamente indicata per matrimoni, nonostante venga indicata come adatta perché le caratteristiche vanno bene, però secondo me non è assolutamente adatta. Dunque per chi è pensata un'ottica del genere, una stabilizzazione molto potente che combinata con quella sul corpo macchina può arrivare a otto stop, il controllo creativo sulla profondità di campo, l'eliminazione del focus breathing e la ghiera dell'iride mi sembrano tutte caratteristiche che la rendono una lente perfetta per fare video, video di fascia alta, cinema magari volendo. Secondo me quest'ottica è pensata per questo, è pensata per il mercato alto di chi vuole fare video pur non entrando nel cinema, perché lì si prendono le ottiche cine. È un'ottica che viene battuta a un prezzo molto importante perché stiamo parlando praticamente di 4.000 euro, è un 3.700 qualcosa, per cui sono praticamente 4.000 euro. È una lente che nessun amatore, a meno che non sia ricco sfondato, si potrà mai permettere. È una lente che forse il 10% dei professionisti andranno a prendere, perché onestamente non ne vale neanche la pena, a meno di non avere un'esigenza molto specifica. È un'ottica che secondo me si potranno permettere delle case di produzione, quindi nel momento in cui si gira uno spot pubblicitario, allora sì, uno studio televisivo o uno studio di produzione si dota di una lente del genere e poi lo usa per girare degli spot. In questo contesto va bene, per tutti gli altri contesti secondo me francamente non è cosa, ma per due motivi sostanzialmente, per la scomodità di trasporto e di utilizzo, come vi ho già detto, e per il prezzo, nel senso che uno potrebbe anche dire io posso permettermela quella lente, la ammortizzo su quattro anni invece che su uno, però posso anche comprarmela, ma mi serve? La risposta è no, ho appena, come vi dicevo, fatto un evento corporate in cui ho usato il 24-70, me la sono cavata benissimo e non ho sentito la mancanza di niente. Quindi andare a spendere quattromila euro per andare a prendere un qualcosa che, sì, è un bello strumento, però mi fa lavorare con degli ingombri maggiori e non mi dà chissà cosa in più, preferisco tenermeli coi soldi a questo punto. Quindi deduco da questo che il target non sono io. Il target potrebbero magari essere i fotografi matrimonialisti, soprattutto in certe zone del mondo dove si riesce ancora a farsi pagare tanto per fare dei matrimoni. Per quel contesto sarebbe molto buona un'ottica del genere, non fosse appunto per gli ingombri, perché nel momento in cui si scatta in mezzo alla gente avere un cannone del genere, e attenzione, un conto è avere un teleobiettivo, si scatta da lontano. Ma quello è anche un grand'angolo, andare con un grand'angolo lungo così in mezzo alla gente, io la vedo molto problematica come cosa. Per il resto bisogna anche dire che sono assolutamente sicuro delle caratteristiche ottiche di costruzione di questo nuovo obiettivo, nel senso che sarà fantastico, sarà assolutamente bellissimo. Avremo uno sfocato come raramente abbiamo visto altre volte, perché stiamo parlando di un'ottica con 11 lamelle, quindi sfocato e bokeh pazzesco. Per quanto riguarda la messa a fuoco, se ho capito bene, abbiamo due motori di messa a fuoco che lavorano in sincrono, quindi la messa a fuoco più fantastica che possiamo desiderare. Compatibilità pressoché totale su tutti i sistemi mirrorless, ovviamente sulla reflex no, ma su tutte le mirrorless canon che abbiamo a disposizione, questa lente abbiamo la piena compatibilità, quindi è una lente fantastica, però per ingombro, per caratteristiche e per prezzo, secondo me è un'ottica pensata per gli studi di produzione, non è pensata né per il singolo professionista, né tantomeno per l'amatore. Fatemi sapere in un commento se c'è qualcuno di voi amatore che sta pensando di comprare una lente del genere e vi dico francamente che io non sto assolutamente pensando di fare questo tipo di acquisto perché ho già il 2470, ho già il 24105, mi tengo quelle e ho tutto quello che mi serve, non ho bisogno di quel passo intermedio che appunto mi sembra veramente pensato proprio solamente per studi di produzione e forse per qualche fotografo di cerimonie. Ovviamente con questo non voglio essere disfattista e attenzione bene, io sono contento di questa novità perché vedo che comunque Canon ha in qualche maniera abbattuto una barriera dopo anni e anni di ottiche fatte in un certo modo, vedo che finalmente qualcuno sta innovando, stanno creando qualcosa di nuovo. Ovviamente è un po' fuori mercato perché col prezzo che ha io credo che nessuno di quelli che stanno guardando questo video se la comprerà, quindi la reputo assolutamente fuori mercato. È per una nicchia ben delimitata e io non so neanche con quanti pezzi pensano di andare in produzione perché non so quanti credono che ne venderanno, ma secondo me ne venderanno ben pochi. Però ciò non di meno sono contento di vedere che qualcosa si muove, che c'è dell'innovazione, che c'è ancora del pensiero, che qualcuno cerca ancora di fare qualcosa di nuovo. Questo è assolutamente incomiabile e sarei curioso di provarla, quest'ottica, perché sono sicuro che è bellissima. Diciamo che in questo momento e anche nel futuro, nei prossimi anni, non ce la vedo proprio un'ottica del genere nel mio equipaggiamento, anche perché voi dovete considerare che io ho lo zaino organizzato in un certo modo e se dovesse entrare una nuova ottica nel mio zaino di queste dimensioni o di queste dimensioni, non mi scandalizzerei più di tanto perché ci stanno. Il mio zaino è pensato per contenere ottiche di queste dimensioni, ma non un'ottica sola di queste dimensioni, perché di questo stiamo parlando. Stiamo parlando di un bestione grosso così. Io al momento, con tutta la roba che mi porto dietro, non ho lo spazio per portarmi dietro una cosa grossa così. E questo rende un'ottica del genere abbastanza inavvicinabile per me, perché non posso caricarmi di un peso come questo, in più a tutto quello che già abitualmente mi porto in giro, per avere in cambio qualcosa che in fin dei conti non mi serve perché ne ho sempre fatto a meno. È questo che mi fa venire da pensare un'ottica come questa, o studi di produzione, o fotografo matrimonialista che a quel punto usa solo questa, ma veramente solo questa, non si porta più nient'altro. A questo punto però vi lascio spazio nei commenti, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Sono curioso di sapere se qualcuno ha in mente di comprarsela. Amatori e eventualmente fotografi di cerimonio, fatemi sapere, siete interessati a una lente del genere? Non vi spaventa il prezzo? Non vi spaventa l'ingombro? Parliamone nei commenti, fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Sono curioso di vedere opinioni diverse dalla mia, perché io ho la mia idea e il mio flusso di lavoro, ma se qualcuno di voi invece vuole un'ottica del genere, la stava aspettando con trepidazione, la vuole comprare appena esce, fatemelo sapere perché sono curioso di sapere perché, che cosa vi spinge, che cosa vi aspettate da un'ottica di questo tipo. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale se già non lo avete fatto, perché quando andiamo a parlare nei commenti io poi rispondo con dei video verticali e quindi non rischiate di perdervi le risposte semplicemente cliccando il bottone rosso qui sotto e iscrivendovi al mio canale. Io come sempre vi ringrazio di aver passato un po' del vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo video.